Le anticipazioni del segreto ci rivelano che dopo l'arrivo di Hortensia dietro il quale è presente un alone di mistero, farà scalpore l'interessamento di Alfonso nei suoi confronti. Il timido locandiere si avvicinerà sempre di più ad Hortensia, fino a che la loro amicizia sfocerà in qualcosa di più, una vera e propria relazione extraconiugale. I due si lasceranno andare alla passione e Alfonso perderà la ragione. Giunto ad un punto di non ritorno, si renderà però conto di amare Emilia. Pieno di sensi di colpa, inizierà a comportarsi in modo strano, cosa che non sfuggirà ad Emilia. La bella locandiera infatti scoprirà ben presto il tradimento del marito. Alfonso ammetterà la verità e proverà in tutti i modi a farsi perdonare, ma Emilia lo caccerà di casa. Le anticipazioni ci rivelano inoltre che Emilia conoscerà un uomo di nome Cesar, che la metterà in guardia nei confronti di Hortensia. La donna è infatti una truffatrice. Alfonso proverà a liberarsi di Hortensia, ma questa lo ricatterà, costringendolo addirittura a rubare per procurarle del denaro. Questa situazione avrà tragiche conseguenze sulla coppia, in quanto anche Emilia si invagherà di Cesar. Se vuoi conoscere sempre le ultime novità iscriviti e lascia un mi piace. Al prossimo video!